cosa accadrà tra noi due chi fosse interessato o interessata ad avere una risposta a questa domanda segue il video nel frattempo iscritti al canale e seguimi sulla pagina instagram massimo taramasco nonché iscriviti al nuovo canale città benessere di cui ti posto il link descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere il quattro casuale il piatto numero uno il piatto numero due il piatto numero tre è creato numero quattro allora cosa accadrà tra noi due pensa a questa persona della quale vuoi sapere cosa accadrà concentrati e poi scegli o la carta 1 o la carta 2 o la carta 3 o la carta 4 perché hai scelto la carta 1 dunque ci sarà ci saranno dei conflitti a causa di una donna molto materialista che in qualche modo metterà zizzania tra voi due che scelto la carta 2 bene ci sarà un'unione profonda veramente importante che scelto la carta 3 ci saranno dei fastidi una relazione che andrà avanti su malesseri di sapori fastidi vari che ha scelto la carta 4 avete a che fare con una persona estremamente manipolativa da cui prestare molta attenzione bene per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di qui ti posto il link in descrizione ciao a tutti